Perfetto ragazzi mi trovo qui a sabbie sudate per andare a completare la missione di guidare un'auto da sabbie sudate a brughiere Brumose in meno di 4 minuti senza mai uscire appunto dal veicolo In questo caso ragazzi ovviamente dovete andare in questo punto esatto di sabbie sudate dove c'è appunto questo nuovissimo benzinaio Perché da un po' che l'hanno giunto neanche da troppo però eccolo qua ragazzi mi trovo esattamente qua Questo è il benzinaio e semplicemente prendete la prima macchina che vi capita magari non il tir che ci mette 8 anni e mezzo Ma questo qui che in realtà ci mette un pochino di meno e semplicemente afferriamo la pompa della benzina e lo carburiamo Facciamo arrivare il carburante della macchina del van fino al 100% ragazzi Dopodiché guidiamo la macchina fino ad arrivare a brughiere e brumose Io ragazzi vi consiglio di fare questa strada qua che stiamo appunto percorrendo da sabbie sudate E andare verso il dominio di Dumi invece che andare verso siepi da grifoglio E invece che andare dritto girare subito a destra e semplicemente seguire la strada ragazzi Perché appunto questa è una missione davvero semplicissima ma che ci richiede un pochino di tempo Quindi ragazzuoli vedete stiamo appunto diciamo tagliando un botto di strada Velocizzo pure che tanto non ha molto senso guardare io che praticamente guido In ogni caso ragazzuoli semplicemente dovremo appunto andare avanti questo gameplay già registrato E praticamente andremo fino vedete abbiamo tagliato Pantano Palpitante tagliando completamente metà mappa Vedete ora ci troviamo esattamente a Pantano Palpitante e siamo a neanche un minuto Praticamente sono passati 30 secondi neanche e semplicemente ragazzi tagliamo tutto Pantano Palpitante Fino ad arrivare poi a brughiere brumose tranquillamente raga Quindi sorpassando anche il camion dello slurp vedete andando verso destra Ovviamente perché se andiamo dritti ci scantiamo contro la cascata E quindi ragazzuoli semplicemente facciamo il giro largo in questo caso perché non ci sono tagli Essendo in salita la strada In ogni caso ragazzi guardate siamo praticamente arrivati a brughiere brumose Quindi boys spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato lasciato un bel pollicione in su Questo è il metodo più veloce e la strada più veloce per appunto arrivare a brughiere brumose nel minor tempo possibile Poi se volete completare questa missione ancora con un minor tempo per fare proprio super veloce Semplicemente ragazzi prendete questa macchina qua che in questo caso io sono a brughiere Però vicino a sabbia sudata e non so se ci sia un tipo di queste macchine qua Ma se trovate appunto una macchina simile a questa qua che va addirittura a 80 km orari Ovviamente mi raccomando rifornitela al 100% e non utilizzate il boost Quindi non accelerate perché altrimenti guardate quanto carburante ciuccia questa macchina Certo va a 80 km orari ma ciuccia davvero tantissima benzina quindi non ha molto senso E non potete appunto rifornirla perché non potete uscire Però va davvero velocissima sta macchina Quindi se trovate appunto una di queste Lamborghini Non so neanche che macchina sia sinceramente ma davvero velocissima e bellissima Qui vicino a sabbia sudata e prendete quella fate il rifornimento E fate la missione nel minor tempo possibile che appunto sia possibile fare E quindi ragazzone io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto Se così è stato lasciato un bel pollicione lì in su Vi invito a guardare gli altri tre video Due che sono appena usciti E uno che sta per uscire tra qualche secondo il tempo di finire di guardare questo video E bro fidati vai sul canale e trovi anche l'ultimo video guida E niente ragazzuoli quindi ci vediamo Nel prossimo video per la live Un bacione grandissimo grazie a tutti Ciao 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 Ciao